Rinnovata la convenzione e quadro tra ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligura e direzione marittima della Liguria e della Capitaneria di Porto. La firma ha visto come protagonisti l'ammiraglio ispettore della Capitaneria di Porto di Genova Nicola Carlone e il direttore generale di ARPA, Carlo Emanuele Pepe. ARPA e le Capitaneria di Porto sono due fra i principali soggetti pubblici che per propria mission operano sul nostro mare, tanti i settori di intervento comune. Qui stiamo portando avanti un'attività congiunta, entrambi abbiamo bisogno uno dell'altro e quindi è a vantaggio chiaramente della comunità e dei cittadini. Quindi con questo accordo stiamo perfezionando un'attività che è iniziata già da alcuni anni ma che oggi andrà sempre più avanti, sempre più spinta, perché l'esigenza del cittadino è sempre più spinta nel settore ambientale e noi vogliamo con questo essere all'altezza del nostro compito. Un compito complesso, un compito che riguarda diversi settori ambientali legati al mondo del mare. Sono compiti decisamente importanti che vanno dalla balneazione e che ci vedrà impegnati fra qualche tempo per garantire la qualità delle acque, i controlli per la qualità delle acque a tutti i cittadini che vorranno frequentare le coste della Liguria, ma soprattutto sotto il tema della marine strategy e quelli che sono i veri controlli sulla qualità delle acque e la qualità dell'inquinamento delle acque. Ricordo che oltre a questo siamo stati impegnati anche in emergenze importanti, si è visto proprio in grande squadra affrontarle in maniera efficace e efficiente fino a subito e anche quelle sono state delle prove di grande efficacia di un sistema che ci vede molto legati per lavorare nel rispetto all'ambiente.